ancora buon viaggio ben trovati con muoversi in toscana in studio mauro ciutini attenzione in a1 panoramica da stanotte fino al 18 con orario 22 6 sarà chiuso per lavori il tratto tra il bivio a1 variante località baccheraia e roncobillaccio verso bologna negli stessi giorni e orari chiusa l'area di servizio roncobillaccio est sempre in a1 al momento traffico lento tra calenzano e aglio in direzione bologna e tra impruneta incisa reggello questa volta in direzione roma la firenze pisa livorno viabilità esterna che non riceve tra la strassigna l'allacciamento con la 1 in direzione di firenze ricordo che sulla statale 1 aurelia è chiusa per lavori una corsia tra cecina sud e cecina nord in direzione nord guidate con prudenza è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze grazie a tutti